Buonasera, eccoti. Ti stavo aspettando. Sì, ti aspettavo. Avevo percepito che saresti passato di qui questa sera. E allo stesso modo percepisco che hai molte domande e molti dubbi che aspettano di trovare una risposta. Sbaglio. Come sempre le mie percezioni erano corrette. Non ti spaventare. Sono qui per aiutarti. Nei giorni che sono passati da quando ho avuto la percezione che saresti passato di qui per cercare aiuto. Ho pensato molto a quale metodo di divinazione utilizzare per poter aiutare a rispondere alle tue domande. Per poter aiutarti a trovare una risposta alle tue domande. E ho deciso di utilizzare il libro degli oracoli, noto ai comuni, anche come il libro delle risposte. È un libro molto utile. Specie quando le domande che girano nella nostra testa sono molte. Puoi metterti comodo. E fra poco inizieremo a cercare le risposte alle tue domande, all'interno di questo libro. Bene. Ora che sei pronto e ti vedo tranquillo, possiamo cominciare. Come prima cosa, ti chiedo di focalizzarti sulla domanda, sul quesito che più occupa la tua mente in questo momento? Pensa solo ed esclusivamente a quella domanda. Io consulto l'oracolo per te. E in questo modo troveremo una risposta alle tue domande. Sei pronto? bene. Cominciamo allora. Chiudi gli occhi e tieni ben focalizzata nella tua mente la domanda. tienila così per una quindicina di secondi. Togli dalla mente tutto ciò che non ha a che fare con questa domanda. Bene. Siamo pronti per consultare l'oracolo. su ogni pagina c'è una risposta. La pagina che il divino mi guiderà a scegliere corrisponderà alla risposta alla domanda che tu stai tenendo nella mente. Abbiamo la risposta. E la risposta è che esistono altre soluzioni. Pensaci. Questa risposta ha un senso per te. Per la domanda che avevi in mente. Sicuramente ce l'ha il divino la scelta per te. sei pronto per una nuova consultazione? Allora come prima? Tieni a mente la domanda. Pensa solo a questa domanda. Ed elimina dalla mente qualsiasi pensiero che non sia attinente ad esso. Bene. Ora mi farò nuovamente guidare per la scelta della risposta alla tua domanda. Mi raccomando. pensa molto bene e focalizzati sulla domanda. O la risposta che riceverai non sarà pertinente e avremo speso energie per nulla. Sei pronto? Non appena percepirò di essere sulla risposta giusta, mi fermerò. Devi focalizzarti meglio sulla tua domanda. Così, esatto. Porta a termine. Anche in questo caso sono certo che se rifletterai con attenzione scoprirai il senso di questa risposta. Sei pronto per la terza domanda. Bene. Sai già cosa fare ora, no? Pensa con attenzione. Abbiamo il nuovo oracolo. che ti farà piacere. Se stavi pensando di fare una scelta, di prendere una decisione, è sicuramente il momento giusto per farlo con questa risposta. Le mie energie di divinazione sono abbastanza esauste per oggi, ma posso concederti altre due letture per aiutarti a trovare risposte ad altre due domande, sempre che tu ne abbia altre, chiaramente. Molto bene. Allora di nuovo pensa alla tua domanda, focalizzati sulla domanda e vediamo cosa ci comunicherà il libro. Conta fino a dieci e apri un'altra pagina. Non stavi pensando con attenzione alla domanda, è chiaro. bene. Allora ripensa mentre io conto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Continua a pensare alla domanda, mi raccomando. chiarisciti le idee. Purtroppo è molto evidente, anche all'oracolo, che non ti stai impegnando a concentrarti sulla domanda per cui vuoi trovare risposta. Se pensi a più cose contemporaneamente, l'oracolo non saprà aiutarci. Hai ancora un'occasione? Poi, purtroppo per oggi, dovrò abbandonare il tentativo di aiutarti. effettuare queste letture richiede molte energie. Sei pronto? Speriamo che sia vero questa volta. Concentrati. Aspetta. Se prima, in qualche modo, era un segnale positivo, ora non lo è più. dovrai riflettere con più attenzione su ciò che domandavi. Se vuoi, potrai tornare più avanti. Mi troverai sempre qui. per aiutarti a trovare le risposte alle tue domande. Ti basterà passare di qui. ti auguro una buona serata. A presto. 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 a presto.